E' partita l'edizione 2024-2025 di Insieme a Canestro in onda ogni giovedì sera in diretta su Rossini TV per accendere i riflettori sul campionato di Serie A2 in cui dovrà sgomitare la VL per tentare di riconquistare la massima categoria. Ospite della prima puntata è stato il presidente Andrea Valli che ha analizzato la bruciante sconfitta con Vigevano nell'esordio interno alla Vitri Frigo Arena. Sono esagerate, siamo alla seconda di campionato e sicuramente è un campionato che è lunghissimo di scivoloni, passi falsi, ce ne saranno anche altri quindi benvenga che siano arrivati all'inizio, anche questi schiafoni possono servire per svegliare un po' tutti così come. Tornando a ieri, quello che mi dispiace più che altro è che non è tanto il fatto di aver vinto o perso, che qui è uno sport e quello ci può stare e che la squadra non ha fatto vedere, secondo me, quello che è il suo potenziale. È una squadra che è stata costruita per essere competitiva e lottare per i primi 7-8 posti al pari delle altre. Fra i temi sotto esame, gli approcci molli del quintetto di partenza. Sotto 9-0 a Lecce, sotto 9-0 a Pesero. Con Nardola a rimonta c'è stata, con Vigevano no. Diciamo che comunque anche con una partenza falsa, anche ieri siamo riusciti a riportarci in parità e quindi diciamo anche il discorso di partire ad handicap non è che è stato quello il motivo principale. Teniamo conto che comunque è una squadra di 10 giocatori nuovi che non si conoscono, che giocano insieme da meno di un mese, da inizio settembre praticamente. A parte Brindisi, che nella nostra situazione tutte le altre hanno già un roster rodato, che hanno già dei giochi impostati già da diverso tempo e che quindi si conoscono tra di loro. Ora servirà una VL ben diversa e non solo nell'approccio. Domenica alle 18 con Avellino, che offre la possibilità di pronto riscatto davanti al pubblico pesarese.